Articolo 1 perché fa riferimento ai valori fondamentali, la democrazia, il lavoro, la sovranità popolare, ai quali noi ci vogliamo ispirare. E oltretutto noi consideriamo questi non solo dei valori ma un programma, nel senso che la democrazia deve essere difesa contro lo strapotere del denaro, contro la manipolazione di chi può controllare i mezzi di informazione, nel senso che il lavoro deve essere difeso, difendere il diritto al lavoro e i diritti del lavoro e nel senso che l'esercizio della sovranità popolare non è solo il voto ma è anche la partecipazione, è fatta di tante cose e non soltanto della delega ad un capo.